Il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio previsionale a maggioranza, senti festa Negrone di Orio Genovese, Puppe e poi anche Melillo, alle 3.07 di questa mattina. A ritardare l'avvio dei lavori, l'assenza del segretario generale bloccato in autostrada da un incidente è giunto in aula solo alle 21. Poi la presentazione delle 13 pregiudiziali del capogruppo di opposizione Dino Preziosi che in un paio di circostanze hanno raccolto, oltre a quelli della minoranza, anche i voti favorevoli di Gerardo Melillo e Geppino Giacobbe. Poi finalmente l'analisi del documento di programmazione economica e finanziaria. Il Comune di Avellino non è un ente strutturalmente deficitario, parola dell'assessore al bilancio Filomena Lazzazzera, il neodelegato al ramo, nominato a fine luglio, lo ha dichiarato subito senza tentennamenti, in avvio della relazione letta in aula dopo le 23 e illustrata per circa un'ora, sottolineando però che non si trattava del suo bilancio. A seguire, una disanima sui conti e sulle misure da realizzare per mettere definitivamente i conti al sicuro. Infine, un cenno sul piano di razionalizzazione delle società partecipate, sulle quali ha promesso di chiedere personalmente un consiglio ad hoc per esaminarle una ad una. Una serie di punti dunque, quelli messi sul tavolo dalla Zazzera, sui quali intervenire immediatamente. E infatti proprio il sindaco Paolo Foti, che ha definito il documento come un bilancio di verità e non politico, ha già annunciato robusti correttivi. Nelle prossime settimane, ha detto all'Aula, ci sarà una pesante riverniciata alla programmazione per apportare delle megamotifiche che ora non era possibile fare. Ma voglio ribadirlo ancora una volta. Non siamo noi l'origine di tutti i mali di questo comune. Ci siamo trovati ad operare in una situazione di emergenza, a scavare tra le macerie. La prima ad intervenire nel merito, facendo però una digressione sostanziale tutta politica, è stata la consigliera di maggioranza Francesca Medugno, che a nome di una non ben precisata componente del PD è arrivata a minacciare la nascita di un gruppo autonomo, se il sindaco e la giunta non cambieranno metodo. Vogliamo collegialità e condivisione, ha detto. Con lei Massimiliano Miro, dei Democratici per Avellino, e Salvatore Cucciniello, vice capogruppo del PD in consiglio, che hanno dichiarato di votare il bilancio solo per senso di responsabilità. Dunque la maggioranza continua a perdere pezzi. Forse siamo davvero ai titoli di coda.